Mentre si rinnova l'allerta meteo per pioggia e forti temporali, il maltempo continua a non dare tregua all'agricoltura retina. Questa primavera verrà ricordata come una delle più anomale. Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il livello di fiumi, proprio come è successo nel Cortonese a Monsigliolo di Camucia, dove la macchia torrente della zona è stralipato con relativa frana, causando ingenti danni all'azienda agricola di Franco Maggini. A raccontare l'accaduto è Daniele Baldetti, conto terzista e collaboratore dell'azienda. Siamo letteralmente sommersi dall'acqua, il torrente non ha retto la quantità di pioggia caduta in queste ore e c'è stato lo strabo. Qui abbiamo sia campi di girasole che di grano duro e grano tenero per oltre 20 ettari. Per quanto riguarda il girasole è difficile che si salvi anche solo un centimetro, il grano è compromesso, forse si riuscirà a raccogliere qualcosa, ma al momento è ancora prematuro fare una stima, è certo che le piante hanno subito una forte asfissia radicale e tutto questo andrà a farci perdere ulteriore prodotto. Una condizione che aggrava duramente il conto dei danni nelle campagne in una primavera assegnata da precipitazioni eccezionali nel mese di maggio, particolarmente delicato per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo, le piante che iniziano a fare i primi frutti. L'anomalia climatica si fa sentire dove si è verificata una vera strage per verdure, cereali e frutta. Secondo la stima della coldirettia retina si rischia di perde con frutto su quattro nelle campagne.